L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge sul taglio delle indennità di sindaci e amministratori locali. Il provvedimento però non entrerà in vigore da subito, ma solo con il rinnovo dei consigli comunali. La legge è stata approvata con 48 favorevoli e 18 contali, dopo tre sedute molto animate, dedicate alla discussione sul testo. È una riforma importante che fa risparmiare le casse pubbliche e allinea la Sicilia e il resto del Paese, ha detto il Presidente del gruppo del Partito Democratico a Lars Baldo Gucciardi. Il PD ha dato un contributo importante, aggiunge Gucciardi, riuscendo insieme con la maggioranza ad approvare un testo coerente con l'impostazione iniziale, rispettando comunque la volontà dell'Aula, che in ogni caso resta sovrana. È stato un lavoro complesso, portato avanti fra più di una difficoltà tecnica e politica. Preferisco guardare i tanti aspetti positivi di questa riforma, sapendo che si tratta di una materia complessa sulla quale è difficile raggiungere un'animità. Ma ogni legge deve essere valutata anche in relazione al contesto generale. Oggi abbiamo raggiunto un risultato importante. Con questa legge mettiamo un tassello che avvicina la Sicilia e il resto d'Italia. La specialità adesso è normalità. Non è più un privilegio, dice Antonello Cracolici, Presidente della Commissione Affari Istituzionali a Lars. Voto in maniera convinta questa legge. Ha proseguito che è arrivata in Aula dopo essere stata approvata ad un'animità in Commissione. Non è la legge che avrei voluto in tutto e per tutto. Abbiamo accettato compromessi ragionevoli. Alla fine siamo di fronte ad un testo completo e coerente. Voglio solo ricordare, ha aggiunto Cracolici, che questa legge segue l'approvazione di norme da parte di quest'Aula che adeguano le indennità dei parlamentari regionali e i consiglieri regionali del resto del Paese. Stiamo portando avanti un percorso coerente di taglia alla spesa e razionalizzazione degli enti locali e di governo. Oggi abbiamo messo un altro tassello alla modernizzazione della Sicilia. Al voto del PD si è aggiunto quello del Movimento 5 Stelle, ma col naso turato, hanno detto alcuni deputati regionali pentastellati, in attesa del momento in cui la maggioranza saremo noi. I tagli dei gettoni erano stati fortemente evoluti dal governatore Rosario Crocetta, che è rimasto deluso dallo slittamento e l'entrata in vigolo del provvedimento. Bisogna fermare Gettonopoli ora. aveva tornato Crocetta a rinviare la norma sui tagli alle indennità di amministratori e consiglieri comunali, spostando l'applicazione alle prossime elezioni, significa sottrarre adesso 50 milioni ai comuni e dunque ai cittadini. Non è andata così. Nei 52 comuni siciliani, in cui si è votato alla fine di maggio, per esempio, per la nuova normativa si dovrà aspettare 5 anni. In 390 comuni, invece, il taglio entra in vigore il prossimo anno. Dalla Regione si sottolinea l'impatto complessivo della legge. Si tratta di un taglio di circa 2.000 poltrone, 1.300 consiglieri comunali in meno, sui circa 6.200 attuali, 500 assessori, 102 consiglieri di circoscrizione a Palermo, Catania e Messina. Compensi e Gettoni per gli amministratori scenderanno in media del 20%. L'Ars sui comuni, ha detto il deputato di Forza Italia Giuseppe Milazzo, approva una norma pastrocchio. In alcuni comuni aumenta gli assessori, rinvia il taglio su indennità e decide di non approvare la riduzione da due ad un giorno per elezioni amministrative che avrebbe portato un risparmio concreto.